La settimana del bruchetto Martino Il bruchetto Martino fa una passeggiata lunedì. Gioca a pallone martedì. Fa un bel disegno mercoledì. Legge un libro giovedì. Venerdì si diverte a suonare. Sabato ha voglia di ballare. Domenica invita tutti gli amici, fanno una festa e sono felici. E adesso ripetiamo assieme i giorni della settimana. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Se vuoi stampare la filastrocca con il bruchetto da colorare, la puoi trovare nel post la settimana del bruchetto Martino di fantavolando.it Iscrivetevi al canale YouTube di fantavolando per essere sempre aggiornati sulle novità. Grazie. 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 Grazie a tutti.